Buongiorno Presidente, oggi 20 maggio del 2021, o mi sbaglio? No, no, appello, prima appello, ore 10.30, Maraventano, Aresu, Assente, Cannella, Di Muli, Rimuovi, Assente, Nona, Assente, Centratemente Pericolosi, Assente, Bernice, Assente, Sino, Assente, Susinno, Assente, Tumbarello, Assente, Valenti, Assente, 21, lei solo Presidente, mi scusi dottore Manfredo, un meglio, io lo devo dire, non mi sbaglio, va bene, allora tra un'ora ci risentiamo, Quindi 11.32 11.32 Va bene, dottore Manfredo, a più tardi A dopo, grazie A presto A presto A presto A presto